Manicure? Oggi è lunedì, c'è un prestativo e chiuso. Ah, ok, scusa. Roll tatuatore aperto. Cosa ti faccio? Un vecchio pugile old school. Va bene. E chi è capace a farlo? La devi smettere di dire sempre va bene, perché poi alla fine si fregano. Va bene. Dora. Vediamo. Vieni. Esci. Come? Quando dice? Vieni. E rimane lì sulla soglia. Vuol dire che ti dimettono. Prima devo fare una cosa. della soglia. Vieni. 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 Grazie a tutti